paola ciao ciao c'è raccontato i punti 5 4 3 2 allora vedo e lei mi appare mi appare su un over craft però per c'è tipo c'è tipo le macchie gli autoscontri che hanno questo specie di cuscinano e gira con questa macchinetta per le strade del paese a né mentre passa aspira tutto ciò che è sporco tutto ciò che un po tipo ghostbusters però anche anche le foglie anche comunque i disincarnati un ufer se esatto una donna un aspirapolvere si dicevano quando non si voleva fare un complemento un aspirapolvere nel senso che aveva una parte del corpo un po bassa no non si dice qualcosa paola ti dà l'autorizzazione si va bene ma lei come la vedi a come lei ma la vuole fare davvero se si quanto è sicuro sicurissimo di piatto di pasta 300 grammi 100 grammi 50 grammi 500 grammi mezzo chilo di pasta ma allora un colto sicura vogliamo fare un chilo yes ok nome del progetto ma accoglimento cioè è come se ripete un po questa immagine che sembrava che lei pulisse con questa macchinetta ma realtà assorbe tutte le interferenze il progetto è proprio le toglie di bel d'intorno e sarebbe esatto il progetto è proprio quello accoglimento cioè proprio coglie tutto quello che trova perché glielo fanno cogliere glielo fanno prendere assorbire va bene vibrazione 4,8 miliardi consapevolezza 123 ps 38 vite precedenti 1395 cervello 9.1 entità eterica ma allora ci descrivo non so cosa è tipo sia un orso è un orso bianco con la faccia nera che viene a postere ma non mi dice una parte celinoide è una parte rettiliana o alla via di mezzo tra questi due qua poi poi c'è un leone facciamo file coliforme anche un corvo e poi una mantide e di al 2 qual è il compito dell'orso allora quello di far apparire le varie interferenze che a quindi le varie varie interferenze e sempre nello stesso modo è come se lui fosse davanti e le altre interferenze dietro ok e agiscono attraverso il filtro dell'orso quindi diciamo alla interferenza appaiono sempre nello stesso modo come si chiama l'orso carl niff a rnf armi carl niff kkk ck con la k mentali allora di livello 3 è una di livello 6 vediamola sì allora quella di livello 3 è quella proprio che fa sì che paola creda ecco che paola creda di che non può vivere la sua vita cioè fa le sue esperienze di vita ok ma questa entità mentale le fa credere che ha scelto una cosa che non era quella che avrebbe voluto scegliere cioè come se si test come se si giustificasse questa facesse sì che lei si giustificasse e così in maniera tale che lei non si prenda la responsabilità delle sue azioni ok e quindi rimane sempre ferma a quel livello cioè quando lei dice le mie figlie hanno vissuto quello che avrei voluto vivere io oppure non volevo sposarmi poi mi sono sposata lo stesso ok è quasi come se dicendo la seconda parte della frase le si liberasse dalla sua responsabilità di aver scelto ok e quindi diciamo rimane lì rimane su quella vibrazione di la fa rimanere su quella vibrazione senza reagire senza prendere l'esperienza e quello che ha imparato dall'esperienza da fa rimanere bloccata ecco e la sei allora la sei vedo questo questa come posso dire riguarda la relazione con gli altri quindi proprio quello che lei mette in campo con le altre persone quando ha una qualsiasi azione verso gli altri verso l'esterno lei agisce in una certa maniera questa entità mentale fa sì che lei agisca senza che ne sia consapevole per far sì che queste relazioni non vadano a buon fine tra virgolette mi viene in mente questo esempio lei prima ha detto che a volte c'è riesce magari vale cene così che presentano persone però è come se non succedesse niente perché questa entità mentale fa sì che lei agisca in maniera tale che non succeda niente ok quasi come se non quasi come se lei non non agisse neanche come si chiama questa entità mentale mi viene c'è scritto sopra vanificazione è proprio in eterico vedo che è come se lei parlasse al muro so come dire come se parlasse da sola come se la persona di là non la sente va bene impianti allora al un impianto mentale al centro della testa che è come una un elica elicottero quindi con due base e che giro poi un impianto eterico quali vero del collo una sfera che funziona un po da è come se quella spera lì facesse sì che paola diciamo modificano un po il tiro di quel della direzione dove paola vuole andare ok quindi è come se lei fosse su una potrei dire una bilancia no quindi se lei fa fa troppo in una direzione che per l'entità non è funzionale con questa sfera la riportano un po diciamo al centro ok poi si ha un cerchio che è come se racchiudesse nelle tube e l'utero stringe come se è così come se avessero tirato un po in giù le tube le hanno strette insieme all'utero poi e poi a 22 dischi più così sotto le piante dei piedi tutte e due poi basta occhio destro caso esoterica di tutti i vari problemi che visione accusa allora allora la prima cosa che vedo chiara è che così fanno in modo che le vita la realtà un po distorta ok che non sia chiara se non vedesse la profondità sto guardando come mai sul testo allora come se tutta la parte destra del corpo è come se volessero agire sulla parte destra del corpo per valutare la differenza tra una parte più sana è una parte dove loro fanno esperimenti o dove fanno mettono impianti alterano diciamo le cose ok perché qui la vedo molto chi ha molto bene integra stabile ok qui la vedo molto in eterico quasi come se si sciogliesse ok quindi è proprio perché loro vogliono confrontare paragonare le due parti per prendere dati piede destro causa su tecnica sì con questi due impianti appunto ai piedi allora a destra danno un impulso a sinistra ne danno uno diversa proprio per vedere questa differenza tra due lati e poi in questa maniera dai piedi dando i due impulsi diversi è come se le confondessero sempre la direzione in cui andare e quindi quasi come se lei non sa mai deve andare sta ferma e si lascia trascinare mi viene da dire no e quindi riescono quasi a decidere con questi impulsi in quale direzione farà andare paola problemi di digestione si qua la vedo più legato a una alla parte emotiva quindi è una parte di più si potrebbe dire rancore nel territorio quindi può essere legata a tutta quella parte finanziaria di cui ci parlava ecco vecchia meno pausa anche il fatto che lei non si senta mai a casa mi viene un po quasi come se si sentisse in base a quindi come soluzione ha trovato di sparire sa che diceva io non esisto ecco meno pausa a 42 anni e quell'impianto lì che gli hanno messo ok quando fa diciamo vertigini cioè quando fa una passeggiata in montagna e accanto c'è al sentiero c'è una scappata le si blocca una forma di vertigine c'è una causa esoterica allora li vedo più che altro un limite se diciamo è come se ci fosse un limite nel senso come posso dirti come se la sensazione fosse se io mi lascio andare di qua in etere quella vedo che a questa tendenza a non lasciarsi andare verso la scarpata ok se si lascia andare troppo libera mi viene da dire che spazio troppo quindi è questo limite che con con le sue interferenze si è messa è come se lei fosse portata a volare ok ma invece si deve trattenere ferma ecco vedo questa cosa qua ci devo dire che è legata molto al fatto che lei ha iniziato a risentire la sua energia ok che però direi che non sa gestire e quindi quasi la vuole bloccare perché lei la collegava a qualcosa che entra in realtà non aveva capito non aveva compreso che era che la sua energia che quindi può imparare a gestirsela ok e quindi è come se se io mi lascio andare a quella energia spazio sono libera e volo però poi è come se non ho il controllo ok e quindi preferisco essere limitata c'è una vita precedente legata a questo e di là poi di questa spedizione e di questa visione che ok allora mi fa vedere una vita dove lei direi era in grado di volare nel senso era in grado di volare ma non fisicamente secondo me poteva essere che faceva dei viaggi del sonno mi viene da vedere qua la vedo occhi chiusi che vola non so aspetta in questa vita però so se una linea temporale parallela se è una linea temporale parallela lei vola vola la vedo volare anche principalmente qua sulla nostra dimensione quindi sulla questa mate sulla terra e però vede anche quindi tu vede tutti i campi anche energetici avete tutti gli aspetti e ogni tanto vola anche all'esterno negli altri universi e c'è gli altri pianeti è una linea temporale parallela in quali pianeti è andata allora questo allora sirio venere marte e poi un pianeta verso sinistra che si chiama kir piru a questi pianeti esistono fare per esempio dei ragionamenti su venere su sirio ha un senso in una matrix holografica in un videogioco no ti dirò che secondo me non corrispondo neanche tra una persona e l'altra mi viene da dire nel senso che è tutto possibile nel senso che c'è vedo se io mi metto a guardare vedo magari tra quattro persone che possono essere lì nello stesso momento a guardare lo stesso pianeta e vedono cose diverse io non ho mai avuto la possibilità di la possibilità la voglia di progettare un videogioco ma quando si progetta un videogioco così si inventano dei pianeti si inventano delle storie quelli che le progettano più che quelli che modellano in 3d con i sistemi di modellazione 3d cad così via il vero e proprio videogioco ci sono i realizzatori concettuali dei videogiochi e sono tutti contenti di mettersi davanti un tavolo con un foglio bianco e dire adesso inventiamo un pianeta in cui quindi descrivere la realtà sulla base di caratteristiche di venere sulla base di una stella che nasce al mattino alla sera e quant'altro fosse significa non avere un quadro di insieme ma fermarsi ricerca google anche secondo ma se sì e cioè che poi lasciano il tempo che trovano perché si basano su altre ricerche di altre persone di altre persone che chiaramente sono interferite con tanti in terra conferenze vabbè sono interferite e influenzate mi viene da dire nel senso che c'è quella persona che scrive quelle cose non ha visto con i suoi occhi solitudine colpa sì 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 lo vedo legato a quell'entità mentale di livello 6 no che fa sì che lei non abbia delle relazioni che va che vada nella direzione che lei vuole ok e quindi finora si dava la colpa ok cioè si sentiva sbagliata la sensazione l'emozione era questa di solitudine e di sentirsi in adeguata sbagliata ripensamento per una domanda abbiamo visto entità 6 no mentale 6 figli realizzano i suoi sogni 6 o 3 non ricordo comunque entrare tale se si tenta non avere non sentirsi mai a casa si era quella cosa che ti dicevo prima di si è quella con la sensazione che ha nello stomaco proprio non essere non sentirsi ma a casa c'è questa gestione di gestione del suo territorio non so non riesce ad avere un suo territorio che sia suo sentirlo su sempre invasa non avere una realizzazione lavorativa sì anche qua la vedo come essere essersi fatta sovrastare dal dall'esterno ok questa cosa che lei assorbe tutte le interferenze altrui potrei dire ok e poi ci rimette di sé quindi si fa si fa trascinare dagli eventi e quando ormai è stata trascinata dagli eventi poi e deve trovare una soluzione per sé ok viene da dire quindi a quel punto anche a livello lavorativo sempre stata trascinata si è fatta sempre quello anche quello che dicevo prima è legato un po anche come dicevo prima che viveva vive delle esperienze ok che sono l'opposto di quello che vorrebbe e poi però si dà diciamo la scusante mi sono sono stata trascinata ok solo che poi dopo si trova con le conseguenze di questo essersi lasciata trascinare e quindi deve trovare una soluzione e questa cosa del lavoro che non è mai stato e se sempre fatto a trascinare ha fatto sì che lei non avesse una sua realizzazione e quindi si trova in questa condizione adesso va bene però a tanti interessi tanti hobby attrazione verso due argomenti londra ci è nata ma questo non giustifica il suo richiamo ancestrale verso questa città a mio parere che nessun interesse ma secondo me è tipo un po di malinconia nel senso se fossi rimasta la no anche qui è darsi una giustificazione avete un po così no questa proprio questa tendenza se fossi rimane lo diceva anche lei prima se fossi rimasta la magari la mia vita sarebbe data diversamente ecco no quindi non poi malinconia malinconia un tornare al passato per alleviare un po il presente mi viene da dire ecco nativi americani caso lì ecco nativi americani mentre lo diceva e io ci vedevo proprio un collegamento energetico ok che le apriva questa da per questo canale delle dici mi viene proprio da piangere no questa emozione che mi fa piangere si apre proprio un canale energetico dove lei ricorda a livello la sua ps che la fa ricollegare la dove lei sapeva fare tutte le pratiche energetiche degli indiani d'america si andiamo ancora una cosa che mi fa vedere che sapeva fare parte che utilizzava spesso allora lei era come si chiama aspetta il capo tribù e lei riusciva a creare con i fumi del fuoco del focolare della si riusciva a creare l'energia che serviva per guarire le persone oppure per che ne so allontanare il nemico far piovere mi viene da dire rendere la terra di nuovo fertile ok sì come si chiamava lei in questa vita e in che anno siamo allora direi 1638 quel più o meno che proprio quell'anno lì dove faceva che doveva fatto vedere questa cosa qua allora ca capitanca ok e potrebbe essere sale sulla roccia il significato tribù aspetta non mi ricordano sud ovest quasi messico sud ovest però chi c'erano non mi ricordo più non sono i o non mi viene neanche un nome più una pagina si no forse cascai anche sono nato può essere sud ovest vabbè ma quelli del sud ovest quindi quella che oggi è new messico se il messico va su una riva sul mare non mi ricordo sull'oceano fosse sicuramente così sì allora sì sì ecco lì il mexico ok quindi sono sull'oceano se vicino appena appena introterra ma più o meno si no non è sull'oceano in effetti il messico è su messi o no è california allora la fondo della california ecco una bassa california che quella penisola una però è sempre messi con la bassa california oregon vabbè più o meno no no giù giù se 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 tra il messico il confine con gli stati uniti di tribuli va bene messaggio di cacapitanca a paola cioè di lei a se stessa cacapitanca è una delle 1395 sue vite sì messaggio che ci spieghi tante cose tra cui il fatto che a lei quella vita è piaciuta perché rimane coinvolta emotivamente ogni volta che ascolta un canto di nativi americani che vede un prodotto nativo americano nativo americano non so la giacca frange adesso non vuole banalizzare però sì la prima cosa che gli dice l'energia che tu senti entrare dalla testa e quell'energia quella capacità che noi abbiamo di riequilibrare gli elementi per portare le vibrazioni a essere sincroniche sincroniche mi fa vedere che il fumo che lui trasformava ok in quello che gli serviva è come se fosse il fumo che poi è quel che l'energia il fumo che rientra nella testa di paola quindi quell'energia li ricircola di nuovo in paola quell'energia che l'ha usato con reiki sì che roba non viene da fuori esatto è la stessa che aveva vuole dire che quella capacità di utilizzare ecco utilizzare la natura che intorno a sé e in quel momento lì per sincronizzare il benessere delle persone che sono in quel posto il suo e quello dell'ambiente l'immagine che mi fa vedere è un corso d'acqua delle dei sassi ok poi una linea di pini e ho tutto un prato una prateria ok e lui col fumo lo come se lo diffondesse e tutto inizia a vibrare con le stesse vibrazioni e si amalgama questo oggi l'ha dimenticato paola sì perché l'ha dimenticato perché non è non non lo riconosce è quello che vedevo prima no è come se lei non avesse riconosciuto che quello che lei sente è roba sua e pensava che gli arrivasse dall'esterno ok in realtà è la stessa energia che le ha imparato a sincronizzare la in quella vita da nativo americano ok e se mi fa proprio vedere può utilizzare anche gli elementi della natura per sincronizzare riequilibrare dove c'è squilibrio energetico evitazionale io vorrei aprire un secondo una prentesi su una cosa che mi ha sempre dato una certa curiosità anche un certo timo timore insomma la chiappa sogni ok cos'è questi cerchietti piedi di piume da mettere sopra letto che vengono usati anche un po come oggetto d'arredo ma che a mio avviso oggetto d'arredo non sono alcuni sono un po così altri sono attravo che succede cosa sono nativi americani a chiappa sogni allora ti dico quello che vedono la teoria è una cosa che so ma speriamo allora la teoria è che tu metti i quattro elementi ok il cerchio è il cosmo facciamo la terra madre terra ok poi metti i quattro elementi ne metti due sopra e due sotto che sono alcuni mettono le piume alcuni mettono i fili colorati di quattro colori diversi blu verde rosso e giallo se non sbaglio se non mi ricordo male al centro di solito metti il sasso che è la pietra ok e tutto questo con delle campanelline che richiamano praticamente quando passano quando c'è il vento passano gli spiriti no ok quindi tutti gli elementi della natura fanno sì che gli spiriti vengano rinchiusi racchiusi nel cerchio e stiano lì ok quindi non arrivino in casa pratica certo cosa vedi io vedo che potrebbe invece essere quello che vedo adesso me ne è venuto e me è venuta l'immagine di uno che può essere più o meno standard ok che a volte può essere invece che trattiene gli spiriti vicino li trattiene vira sostanza è uno stava bene ma si mette sta roba si ritrova la casa piena di più che piena di allora vedo che li trattiene lì però poi le vibrazioni degli spiriti vengono emanate ecco escono da lì quindi una colla una carta moschicida per energie non voglio dire spiriti comunque per emergere che possono passano passano ovunque dappertutto tutta la nostra vita immersa in energia certo e spiriti qualcuno le finisce interferenze e va in paranoia perché l'interferenza sono brutte e cattive ma qui è tutto interferenza così quindi o si va i matti come certe persone o si capisce che noi siamo quelli che hanno deciso questa cosa che sono soprattutto senza essere a fernette branca questa è bella e non pure caduta paola boom ha inquadrato soffitto sono un cabarettista mascherato anche questo è bello posso filo e quindi ma nessuno quindi gestiamo noi il mare di melma lo gestiamo noi oggi voglia di mare di melma gestito domani no e quindi mi faccio una bella giornata tranquilla dove faccio tutto quello che mi pare so tranquillo felice sereno e gioioso questo è dio poi puoi anche avere i due giorni nono essere dio è questo questo è un ottimo risultato quindi a chi ha posto ogni sì o a chi ha posto il mio ecco allora mi è venuta questa immagine se la chi ha passoni lo usi per raccogliere magari delle potrebbe essere se uno potesse imparare a utilizzarlo per raccogliere magari delle vibrazioni negative che ci sono in quel momento in quell'ambiente ok le raccoglie perché vedo proprio che come se queste campanelle e tutto questa cosa vibra in una certa maniera che attira cioè catalizza proprio alcune vibrazioni ok e poi è come se tu puoi portare questo po questa cosa in un posto dove poi può c'è anche se è lo buttino quindi ecco se usa getta potrebbe essere utilizzabile ecco e invece tu è una chiappa su ogni paola si dove camera da letto in camera da letto quello che ha fatto sulla testa sopra la tua testa di fronte di fronte ai piedi del letto vivi però tutto così c'è quello che vedo io è che da lì è come un cono ok tutto ciò che nel cono si sincronizza quella vibrazione di resta già meditando di bruciarlo di buscarlo vabbè senza diventare paranoici bene e la parte più importante la componente sentimentale della vita di paola è un piccolo disastro lei sa non è non ci ha messo la solita domanda sulla fiamma perché ormai è di moda lei sa che c'è sa chi lo vuole e ci sono due fatti molto interessanti di cui vorrebbe capire qualcosa di più ovvero ha visualizzato una pallina di luce che ha tirato verso l'alto domandandosi chi è dove esiste la mia fiamma e la pallina di luce non è atterrata lontana ma accanto a lei quando poi abbiamo fatto lo specchio del mare grazie anche agli suggerimenti del nostro amico emanuele no no allora quello l'ha fatto no era lo specchio delle fiamme quindi grazie ai miei suggerimenti l'ha visto sopra di sé quindi anche lì il concetto che lo guarda guardava e lei quasi più centrato e sicuro di lei e lei che però non sapeva che cosa dover interpretare dal fatto che questo qui la stesse guardando sopra la sua testa oggi le possiamo dire è vicino c'è esiste fatto e finito e vicino è così è così anche se non è allora c'è c'è ed è presente c'è vedo che lei ha molto chiaro che come come vuole la sua fiamma che quindi è creata la fiamma è creata c'è a si è presentato qua appena abbiamo appena mi sono messa a guardare questa cosa lui è arrivato che quindi in eterico e qui vicino a paolo e potenzialmente lo vedo vicino a lei arco di quanti chilometri nel raggio di 30 chilometri bene non c'è nient'altro da dire altra questione finale interessante prima dei genitori non dimentichiamoci lei parla di energia nelle mani e di reiki e nell'abbiamo già detto guarda che l'energia nelle mani si chiama prana i reiki è solo una delle tante pericolose tecniche per gestire questo prana ma avere il prana non significa essere legati a reiki no infatti ecco l'energia lì che aveva da non mi ricordo il nome la gotti tipi di cacca se la vita anche ha capito anche se c'è lo stesso tipo sì 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 dell'attiva usando delle tecniche reiki che ha studiato ma anche un po abbandonato però l'attiva toccandosi la fontanella perché arriva dal dio padre e dall'universo e da stucato va bene fa male quello che lei sente entrare non è non è non entra è vedo proprio che c'è questo arco di collegamento tra l'energia del fumo possiamo dire così ok che è quella che lei sente sopra è proprio questa cosa la legge del fumo va in alto la vedo in alto e vedo che non mi ricordo il nome indiano sì che l'indiano una volta che arrivava il fumo sopra la sua testa ok lui lo lo proprio lo disegnava e lo faceva vibrare con la situazione che serviva ok quell'energia lì è quella che lei sente e non è che entra già presente in lei ok questa immagine qua proprio di questo arco di unione tra i due credo che è sempre lei questa energia lei è riuscita aumentare il controllo o rimasto un attimo in stand by è quello è quello il suo problema il problema adesso è proprio quello che lei non ha imparato ad averne il controllo perché pensava venisse da fuori quindi anche già c'è è come se fosse alle prime armi e in più pensava che venisse da fuori quindi deve proprio imparare a a sentirla quindi lasciarla fluire perché è roba sua e poi può imparare a ad averne il controllo utilizzando appunto concretamente nella matrix gli elementi della natura mettendoli assieme anche all'esterno all'esterno può farlo direttamente nella natura e se deve farlo in un posto preciso può utilizzare gli elementi della natura e conseguenze del reiki e ci sono allora la era agganciata però poi il fatto che lei non l'ha più ha più fatto si è sganciata la la vedevo agganciata una specie di all'orne eterico mi appare come se fosse un genio della lampada una figura così che gestiva appunto la sua energia perché le si è lasciata gestire da lui quindi ogni volta che lei richiamava l'energia del re che lui si attivava e gestiva paola per avere delle energie per se per questa interferenza va bene portale auguro genitori tutti i parenti di tutte le generazioni di paola no se genitori sono arrivati e sono tutti e due non so penso che il papà abbia riacceso la visione di di londra nella mamma però ripeto fermi a londra ripeto in una strada di londra vicino a una casa in una strada di londra se tutto nati la cosa vogliono dire a paola senza vick dicono ti stiamo preparando il terreno a londra quasi come se fossero tornati prima che paola nascesse ecco mi viene da dire così no quindi poca consapevolezza sempre 0 i disincarnati sanno tutto dedichiamoci e affidiamoci loro ric a tutti e due ok appena hanno preso la pic hanno visto le informazioni della loro vita prima erano abbracciati poi si sono separati separati ti vedo non li vedo più uniti come prima sì allora per la mamma soprattutto per la mamma la mamma per lei è chiara l'informazione che era come se a londra ci fossero legati a londra perché dovevano riparare al loro fallimento tra virgolette nel senso che l'obiettivo era quello di poter restare la mano ce l'hanno fatta e quindi per quello era ancora legata la ma in realtà adesso l'avete come esperienza che può succedere ovunque a lei viene questa cosa qua la città del controllo finanziario mondiale appunto non ho fatti appunto l'esperienza tutto quella lì che energia c'è a londra valore e che energia c'è a casa di paola dove il posto in cui lei vive ci sappiamo c'è dell'acqua no c'è dell'acqua no ma in zona insomma anche lei vive così però lei vive e poi in un posto di è molto interferito ma sì c'è si è appena sotto invece non è però c'è l'acqua valore di londra li facciamo vedere genitori e il valore di posto in cui vive paolo adesso allora l'interzione hanno fatto bene o male come dicevi scusa valore dell'interferenza valore dell'energia cioè se quando si diceva quella città una bella energia anche evidentemente è interferita ma non così troppo ci sono delle città che sono una fogna non so io mi sono trovato molto con tutto il bene per i catanesi molto male a catania catania una fogna energetica terribile ne tenevo solo andare allora ti direi londra 5 quindi quasi a 0 il monte dove abita lei 15 ok c'è una paese posto una città un luogo con un valore molto alto il più alto sul terra allora tre posti sulla terra mi viene a un punto preciso delle alpi tra l'austria e l'italia che ha un energia fortissima quasi c'è l'assento proprio che arriva da dentro la terra altissima quanto 180.000 poi c'è un punto tra all'arco del madagascar nel mezzo all'oceano che anche 210.000 e poi la punta estrema del k2 la punta più alta non mi ricordo mai la seconda no in alto in alto e per esso ecco la punta l'ultima punta non ho raggiungibile proprio il sasso più in alto deve resta se 250.000 molto interessante valore di milano 23 ma insomma la cavamale sono una città caso valore di lecce e 110 è turino 58 verona 32 di forno 28 beh 10 110 tanto il salento in generale che allora 128 va bene i genitori possono lasciare un messaggio finale alla figlia tu sei la massima espressione di noi non ci poteva essere energia più grande e poi la ringraziano grazie li mandiamo nel portale ora insieme a dimmi quanti parenti vecino quale c generazione qualcuno c'è solo un paio della sesta addirittura amici dei parenti quindi numero totale 892 va bene tutti dentro portale aureo chiuso creazione definita ha fatto importante è una tappa fondamentale per la nostra consapevolezza della mica sorgente di dopodiché cosa vuole fare paola vuole andare al cluster bene mentre lo fa invitiamo le due figlie l'ex marito bari compagni tutti quelli che lei vuole invitare nel cinema che prendono se vogliono tutte le informazioni e assistono in diretta al gran finale mi ha fatto vedere una cosa molto chiara la ps deve andare in un posto preciso a riconoscere a riconoscere la sua vibrazione e poi lo dico dopo il nome preciso ricordati a paola cluster come vedi brevemente i contratti e una volta che li ha visti paolo li può togliere e finalmente creare qualcosa lei invece di subire una realtà e basta diciamo che qui c'è una fregatura tra virgolette nel senso che i suoi contratti potrebbero apparire all'apparenza come dei cristalli di rocca perfetti in realtà è finché sono finti non sono con quell'energia libera ecco ok ma è come se avessero in eteri che se noi dovessimo vederli dal vivo sembrano cristalli di rocca in realtà in eterico è chiaro che l'energia non è quella ecco via via e ad eterno qua si vuole creare la forma di cristallo di rocca ma va bene ma può fare creare anche a forma di piccaciu fatto l'eterno fatto avatar mhm mhm aperto portale definitivo sta buttando dentro era chiuso nuova vibrazione di paola 354 miliardi nuova consapevolezza 149 di s 63 vite 1342 cervello 9.8 allora i valori stranamente sono aumentati sì ma non così tanto per esempio le vite sono scese di una manciata la vibrazione alta è che però ormai sono anche abituati a qualcosa di più perché questi valori così poco significati è come se lei dicesse ok è come se lei dicesse troppo bello per essere che non so come dire ecco quindi ci va quasi con i piedi di piume allora è come se la ps per non farla sconvolgere direi ok tra le cose gradualmente quindi se lei rimane con queste condizioni aumenterà e vedrà proprio vabbè mentre se non ci sono più impianti non ci sono più le mentali nessuno più la progetto accoglimento non c'è più a ma la fiamma dove è l'altra no 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 si sono avvicinati o si sono allontanati si sono avvicinati lei ha raggiunto lui lui ha raggiunto lei e anche qua troppo bello per essere vero quindi con cautela non cautela con gradualità e si sta girando e pian piano no e metabolizza ogni ogni passo che fa verso di lui ecco così non è agitata va bene messaggio finale abbiamo finito allenati concretamente a imparare a sentire che è la tua energia ok allenati anche così facendo delle prove con gli elementi della natura per te nel senso così quello che ti viene no vedere che energia si crea mettendo assieme gli elementi mi viene tanto che la vedo tanto utilizzare i sassi di fiume ok e le foglie i petali e i rametti e poi man mano proprio prendere dimestichezza con la sua energia collegata alla natura ecco questo è quello che è la cosa fondamentale adesso sei libera da ogni legame col passato da ogni aggancio con quello che è stato e che invece poteva essere ok adesso sei libera da tutti questi ganci da adesso in poi la tua vita è la tua e tu crei quello che vuoi ed è tutto quello che crei e verso il tuo benessere non ti devi fare influenzare dal turbe mentali direi no e da condizionamenti esterni perché quello che tu vuoi creare è verso il tuo benessere quindi rimani centrata su quello quello che ti fa stare bene come la vedi la vedo molto leggiadra ok con un vestito bianco e vedo proprio che si lancia verso la natura volando fluttuando volando va verso la natura e come se dall'alto lei potesse scegliere no quale elemento della natura serve in quel momento le serve in quel momento e quindi selezionare va bene siamo finiti sì nella porta